Non si sarebbe trattata né di tragica fatalità né di tragico incidente. Petru Popa Amari nel 28enne di Nazionità Romena, il cui corpo è stato rivenuto giovedì 6 marzo in una condotta della rete fognaria dell'arteria stradale che conduce da Barletta verso Andria all'ombra del cavalcavia della strada statale 16, sarebbe stato ucciso. A evidenziarlo l'autopsia è eseguita venerdì dal medico legale in trono al policlinico di Bari. L'esame autoptico avrebbe fatto emergere la presenza di 5 colpi alla schiena inflitti da un coltello oltre a violenti percosse subite dalla vittima. Sul caso affidato ai carabinieri della compagna di Barletta diretti dal tenente Iannucci e coordinato dal PM Marcello Catalano della procura di Trani, le indagini si rivolgono a 360 gradi. Il giovane senza fissa dimora aveva precedenti penali. Lo scorso settembre era stato arrestato per una rapina, aveva ripetutamente violato l'obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri e a seguito di questi episodi era scattata la denuncia finalizzata all'aggravamento della pena. A trovare il suo cadavere, i tecnici del servizio fognature della Quedotto Pugliese intervenuti in loco per ripristinare la conduttura fognaria dopo la segnalazione che era intasata. L'uomo, secondo quanto evidenziato dall'autopsia, sarebbe stato ucciso almeno due settimane fa. Il 22 febbraio la sua compagna aveva denunciato la scomparsa dell'uomo ai carabinieri di Benevento. Le operazioni di recupero del cadavere sono state difficoltose per i vigili del fuoco in quanto il canale era colmo di detriti. L'identificazione dell'uomo è stata resa possibile da un documento che aveva nei pantaloni.